Buongiorno, buongiorno e buon sabato. Sorpresa, sorpresa, oggi è la grande playa. Vado a prendere un po' di sole, vi faccio un bagnetto e vi faccio il video della grande playa. C'è il signoretto del cosunigno. C'è un po' di ventarello, ma la giornata è pavolosa. Gradi 25-26, più o meno. Ecco qua la grande playa. Ciccio! È bello! Diciamo una cosa, è un'appertura, è un'appertura con canale YouTube. Dillo qua. Ciao! Dimmelo. Perché hai creato un canale YouTube? Per far vedere alla gente dove sono, in che posto siamo, no? Ti piace qua a te? Sì, mi piace. Quanto ti piace? 10 su 10. Sì? Ma ti stai divertendo? Sì. E a scuola come vai? Bene. Come vai a scuola? Bene. E lo spagnolo? Bien. Bien. Ah sì, así es. Sì. Fatti vedere un attimo, che gli diciamo una cosa a sta gente. Guardate se non assomiglia a Christopher Lambert. Girati Raul, fatti vedere. Christopher Lambert è un picchegno. No, mangiando. È vero? Di qua? Cioè, già di qua. Non sei Christopher Lambert tu? No, io non sono. Me lo sei assomigli, vero o no? Sì. Io per me lo stagliati per la gente. Avevi il codino, lo sa la gente. Perché quando io ero piccola avevo tipo i capelli. Stai facendo? Stai facendo il video? Stai facendo il video. E' un video del video su YouTube. Ecco qua, sì, la grande praia. Dove siamo Raul? E' un po' di gente, no Raul? Sì, c'è un pochino di gente. Sì, c'è un pochino di gente. Lo facciamo il bagnetto? Sì. Sì, lo facciamo. Ma non con il... Più là lo facciamo perché qua ci sono le... Le onde? No, è sporco, non vedi? Ah! Adesso ho visto. Perché è almeno di aglio. Bravo! Eccoci qua ragazzi. Alla grande praia. E' un pochettino fredda, perché è praticamente come un ghiacciolo. L'acqua. Oh! E' fregna. Eh, lo so. E' un pochettino fredda, perché è più fredda l'acqua. E' un pochettino fredda, perché è più fredda l'acqua. Posso dire che qua l'acqua non è molto fredda. Di questo pezzetto qua, boh. La grande praia, chicos. Questo c'è. La grande praia. E le due. E le due di sabbia. Che sono più avanti. Molto più avanti. No, non è fredda l'acqua. Qua, qua non è fredda. Cari ragazzi, guardate che spettacolo di mare. Grazie. Grazie. eccoci qua per fortuna che c'è sto ventarello veramente che hanno sto vento perché quando c'è il vento è solo più blu già blu già anche adesso proprio ventilato diverso ti abbronzi prima pure cari ragazzi eccoci ok ragazzi vi auguro un buon sabato domani un altro video non solo lo farò ma con l'evo il 90% con l'evo ciao ragazzi buona serata buona giornata pochino pochino qui 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 Grazie a tutti